Ciao Ciao amore Passavamo di qui e ho pensato Che potevamo venire a salutarti Non ti vediamo mai Hai fatto bene amore Sono molto contenta Cosa stai facendo? Ti stai combinando Diventi sempre più carina Grazie Colpo d'arte guarda Che carino Ti va a prendere questo taglia Eccola le gambe Così Bellissimo Tutto ok? Sì sì Tutto ok Pausa 5 minuti per me Mi ha fatto paura No no Allora cosa ne pensi delle sette? Le piace? È proprio di questo di cui volevo parlarle Che cosa c'entrano l'orsetto di peluche e i coltelli con i nostri collanti? Ma lei cosa ne vuole sapere di fotografia e marketing? Mi lasci fare il mio lavoro Io sono quello che mette i soldi Quindi grandirei un po' più di collaborazione da parte sua Collaborazione? Vi do io la collaborazione Ora mollo tutto e non lavoro più con degli incompetenti Filippo io mi sono rotti i coglioni di lavorare con questa gente Questo vuole decidere sul mio shooting Io adesso prende e vado a casa Ma stai schertando? Non fare l'imbecille che non te lo puoi permettere E poi tu sarai anche un artista Però la tua arte ormai l'hai venduta E ciò che vendi non è più tuo Quindi adesso torna dentro e finire questo lavoro Ne riparliamo stasera Stai bene? Scusa Sono alla salita sbadata Stai bene? Stai bene?